Vuoi investire a Dubai nell'immobiliare o vuoi investire con EMAR? Sono due cose diverse. Allora, ancora una volta mi trovo di fronte alla mappa gigantesca della città di Dubai. Andiamo subito a vedere cosa è successo, le notizie che sono arrivate per Almar Tum International Airport, l'aeroporto nuovo. Ci sarà un ampliamento imponente di questo aeroporto, l'annuncio è stato dato qualche settimana fa, ma conseguentemente tutta l'area intorno all'aeroporto è diventata diciamo molto molto allettante e praticamente il costruttore EMAR e poi anche Dammac hanno già lanciato delle community nuove prestigiose per quanto riguarda EMAR, la community di Oasis, la community di Heights, tante townhouse, ville. Dammac lo stesso ha lanciato una community di townhouse, sono arrivate più di 3.000 EOI, expression of interest, quindi domanda superiore all'offerta. E quindi questa è la situazione. Non è un'area secondo me da proporre al mercato italiano, perché è difficile da trasmettere, da far capire quello che diventerà, però è giusto avere le informazioni. Invece qualcosa di molto più interessante per il mercato italiano, io voglio parlare di EMAR Beachfront. Lo sapete? Lo sapete dov'è? Qual è la situazione? Cosa sta succedendo? Andiamo a vedere il modellino che vi do qualche info. Ok, facciamo un piccolo recap del Beachfront. Allora, gli ultimi due progetti lanciati, il Sea Point, Tower 1, Tower 2 e il Bay View, Torre 1 e Torre 2, lanciati mesi fa. È rimasto ben poco a livello di inventory, però ogni tanto qualche cancellazione arriva sempre. Io la settimana scorsa avevo in mano un bellissimo two bedroom al ventesimo piano, full Marina View. Per darvi un valore eravamo sui 14.000 euro al metro quadro. Questi sono i valori che hanno raggiunto queste torri prestigiose. Il Bay View, tra l'altro, sarà consegnato, arredato, brandizzato adress. Allora, il prossimo lancio DMR, specificatamente, ripeto, DMR, dovrebbe essere questo, in questo plot. Non sappiamo se il modellino sarà come questo modellino abbastanza vecchio, quindi non sappiamo se sarà questo. Dovrebbe essere nel periodo estivo, quindi potrebbe essere luglio, potrebbe essere in agosto. Quindi sarà mio compito comunque tenervi aggiornati e naturalmente, in questo caso, qualora foste interessati, bisogna muoversi in anticipo. Non mi stancherò mai di dirlo. Ok, lasciamo da parte un attimo l'Emarvich Front, che è questa parte specifica, e concentriamoci invece sulla parte in entrata, che è chiamata Dubai Harbor. Allora, qua si vede una parte dell'entrata, non tutta, e vediamo che ci sono cinque building, dovrebbero essere sei building bazzi, che sorgeranno, non sono di Amaro, sono di un altro costruttore privato, con il quale io non lavoro, perché non posso lavorare con tutti, è un mercato immobiliare vastissimo, però ecco, questo per farvi vedere che nasceranno sei building bazzi, probabilmente sarà anche qui costruita una piccola striscia di spiaggia, e quindi tutta questa strada in entrata sarà costeggiata da dei building. Poi, notizia fresca di qualche giorno fa, perché noi siamo qui praticamente, l'entrata arriva fino a qui, mentre a destra c'è Damak, a sinistra nasceranno tre torri di circa 50 piani del costruttore Arada, saranno torri di lusso, il prezzo dovrebbe essere superiore al milione di euro per i bi locali, quindi, dico dovrebbe, perché ancora notizie ufficiali non ce ne sono, anche questi saranno con la spiaggia, molto probabilmente, e saranno praticamente all'entrata del Dubai Harbor. Ok, andiamo un attimo a parlare del Dubai Creek Harbor, ok, la Downtown 2.0, che sarà di circa due volte Downtown come misure, allora siamo qui a proposito, perché ieri è stato annunciato il lancio di un nuovo progetto immobiliare al Creek, bellissimo e prestigioso, naturalmente, il Palace al Creek Beach. Andiamo a vederlo adesso nel mock-up. Ok, questo è il mock-up, quello gigantesco, e il building è questo qui, che si affaccia sul canale, naturalmente vicino alla metro, hotel e residence, 5 stelle, è un brand molto importante, il Palace, e fa parte del gruppo Address. Quindi in questa striscia di Creek Beach è stato lanciato questo, che è l'Arlo, torre residenziale, adesso lanciamo questo, che è il Palace, hotel e residence, e il prossimo e ultimo lancio sarà questo, di cui non abbiamo nessuna informazione. Allora, sono dei building diversi, ok, anche se i modelli mi sembrano uguali, quindi i prezzi sono diversi. Allora, l'Arlo, avevo preso un one bedroom a 400.000 euro, bello un piano alto. Qui, per il Palace, invece, partiamo da 2.1 milioni di birra, quindi partiamo da oltre 500.000 euro. Prezzi al metro quadro siamo già qua sui 7.400 euro al metro quadro, perché questo è un attore di lusso, ok, hotel 5 stelle. Io avevo in mano tre clienti interessati, ma gli ho sconsigliati, gli ho detto no, non fa per voi, aspettiamo e vediamo magari di fare questo, vediamo di fare questo, perché qui bisogna essere convinti al 100% e bisogna avere i soldi, naturalmente. Bisogna avere, se ti dicono che parte da 2.1 milioni, vuol dire che magari per un piano più alto è 2.3, 2.4, quindi bisogna averli, non bisogna essere tirati. Poi con le mar, appunto, bisogna essere certi al 100% e muoversi un po' in anticipo, non il giorno stesso, perché è tardi. Quindi, eventualmente, guardiamo questo. Allora, per concludere, voglio ribadire, nessuno vi obbliga a fare investimenti immobiliari a Dubai, ma se avete voglia di fare, dovete entrare in un mindset particolare che non è per tutti. Ricordo che Dubai non è per tutti, ci vogliono i soldi, ok? Il mercato viaggia ad una velocità estrema, quindi non c'entra niente con l'Italia, bisogna a volte anche vederci lontano, essere magari un po' visionari. E adesso, vedete come guardo lontano, eh? Allora, le procedure qua assomigliano veramente alle aste online, quindi bisogna armarsi di passaporto, velocità e contattatemi, in anticipo, naturalmente. Alessandro Ventura, Dubai. Allora, le procedure qua assomigliano veramente